Quando un animale ha fame è difficile che sappia trattenersi dal cercare cibo. In questo caso però il leone marino ha dimostrato di avere un grande appetito. Durante una battuta di pesca a Cabo San Lucas in Messico, un gruppo di pescatori si è battuto in un leone affamato. L'animale ha incominciato ad inseguire lo yacht senza fermarsi, fino a che uno dei pescatori gli ha aperto un piccolo spartello. Così da farlo salire a bordo. A quel punto il leone marino con un grande balzo si è catapultato sulla barca sotto gli occhi incredoli dell'equipaggio, chiedendo senza se e senza ma del cibo. Oh ho ho ho! Hey buddy! Oh, that's great, see? I'll get a video going here, buddy. Yeah, no shit!